Un servizio che guarda le categorie fragili, a favore di tutti i pazienti che hanno oggettive difficoltà di deambulazione, per i quali ovvero anche solo effettuare un semplice prelievo diventa un'operazione complessa a livello logistico. Si rafforza il servizio di prelievi domiciliari nell'ASL BT. Dopo Trani, Barletta e Biceglie, il piano di intervento è stato attivato anche nei comuni di Minervino Morge e Canosa di Puglia. Il servizio, lo ricordiamo, è riservato a coloro che pur non essendo in regime di assistenza domiciliare integrata, rientrano in determinate fasce da tutelare, dunque i diversamente abili, i cittadini in momentanea impossibilità alla deambulazione, i pazienti cronici in fase di riacutizzazione di ultraottantenni, i cardiopatici e gli obesi residenti in abitazioni non munite di ascensore. Si aggiungono a questa lista anche coloro che vivono situazioni cliniche temporanee, valutate di volta in volta da un dirigente medico del distretto afferente. I prelievi saranno effettuati da un infermiere in orario di servizio. Per prenotarli basterà recarsi presso lo sportello del CUP o rivolgersi direttamente al call center. Non si prevedono costi aggiuntivi per l'utenza.